Ciao ragazzi, come state? Come vi avevo anticipato ho provato a fare questa pseudo challenge tra Temu e Shin facendo l'ordine lo stesso giorno che sarebbe arrivato prima, insomma. A quanto pare è arrivato prima Temu e come avete visto è arrivato, cioè che quando mi ha dato il pacchetto devo essere rimasta sconvolta praticamente. Adesso l'ho aperto perché veramente dovevo vedere in che stato poteva essere la roba che ho ordinato perché è assurdo. Vi metto qui la foto. Come avete visto è veramente allucinante. All'interno ci sono 13 oggetti e ora vi dico anche i prezzi, quindi carico l'applicazione da telefono. Allora devo dire che sono stati comunque veloci, cioè veloci, hanno rispettato la tempistica e tuttora continuano ad esserci sempre svariate promozioni. Promozioni che secondo me però non bisogna farsi prendere troppo dalla fuga di acquistare perché secondo me appunto ci sono tante cose che hanno messo tipo 60-70% però se vedete il prezzo alla fine, il prezzo scontato quindi finito, li trovate anche da altre parti insomma. Quindi un po' una delusione. Comunque, allora, vi faccio vedere, allora eccolo qua l'ordine, vediamo se riesco. Ok, allora. Tra l'altro ho fatto anche una procedura di reso e vi spiego poi cosa è successo. Allora, vi faccio vedere, beh, prima questo che ho tirato fuori, che quando l'ho visto così distrutta la scatola ho detto no, qua è arrivato rotto e invece per fortuna no. Guardate quanto carino è. Allora, è la campanella in vetro con i fiori di ciliegio, vedete che balli. Qui abbiamo, vediamo se riesco, non l'ho aperto questo pezzo perché ho detto tanto se l'ha rotto l'ha rotto il vetro. Quindi, intanto vedo anche il prezzo. Allora, questo si chiama campanelli e olici in vetro, che sono quelli che insieme ai giapponesi mettono fuori delle finestre, dalle porte. Forse si riesce ad aprire. Comunque, pagato 1,98 euro. Ma c'è lo scotch? No, non c'è lo scotch. Semplicemente è stato ben arrotolato e quindi sta comodo lì. Mamma mia, neanche dovessi aprire una ball con l'apertura facilitata. Che caspita di carta hanno. Vabbè, avete capito ragazzi, è molto carino, c'è la perlina. L'unica cosa che non mi piace è questo bigliettino di carta, che mi pare di ricordare che tipo si dovrebbe scrivere qualcosa. Non mi ricordo, è una cosa che vedevo appunto nei manga giapponesi. Io intanto continuo, mentre vi parlo. Però non mi ricordo, non mi ricordo bene. Ah, ma è fatto in vetro? No, non è vetro. No, questa è plastica. Sinceramente pensavo che fosse in metallo, onestamente. Ma ce l'ho fatta comunque. Carino, mi piace. Di questo sono molto contenta. Intanto lo mettiamo in parte. Poi, ho preso questo. È praticamente un appendio abiti, borse da porta. Vedete qui appunto si appoggia dietro la porta e poi si appende. Però, ho notato, infatti l'ho preso per il mio compagno. Questo, il prezzo è 88 centesimi. Sono veramente troppo attaccati i ganci. E quindi, se devi mettere una maglia, risulta un po' difficile, insomma. E quindi, l'avrei reso, questo. Poi, proseguiamo. Ho preso questo, che ho visto su Facebook. Praticamente lo chiamano l'anello antistress. È praticamente un anello da mettere, in questo caso così. E poi ci sono le palline da girare. Adesso non so se... Vediamo, mettendolo in un altro dito. Praticamente, secondo quanto leggevo su Facebook, girando le perline ti passa lo stato ansioso, di stress. Però, la qualità veramente, non dico che fa schifo, ma veramente scarsissima. Cioè, sembra un pezzo di metallo con delle perline. Cioè, non lo so ragazzi, proprio non mi è piaciuto. Quindi, anche questo lo volevo rendere. Sì, è rimasto un po' così. Però, d'altro, ne pagate poco, non ci si può aspettare. Cioè, 39 centesimi, quindi. Poi, ho preso questo stampo, che mi piace un sacco. E questo, 89 centesimi. Guardate che bello. Se vi ricordate, io ho quello del lupo. No, scusate del lupo, sto guardando il lupo. Stavo vedendo che hanno messo il forello qui. Sì, ma, cioè, scusa, che senso ha mettere il forellino qui e dopo lo tieni così? Vabbè. Magari lo taglio anche, perché secondo me è ridicolo. Magari proverò la prima volta. Comunque, vi dicevo, sì, ho l'orso, se vi ricordate. E guardate che bello, cioè, veramente stupendo. Questo gli farò un portacchiavi a mia sorella. Sì, sinceramente, qua dove si potrebbe mettere, in testa, effettivamente, non c'è un posto. O magari in mezzo qua. Non lo so, da provare. Però, molto bello come stampo. Poi ho preso questo set di bracciali. No, è sparito. Eccolo qua. Che adoro. Allora, a me è sempre piaciuto lo Ying e lo Yang. Quando eravamo molto più giovani, io e il mio compagno avevamo proprio una collanina con lo Ying e lo Yang. Che proprio, sì, erano due collanine con il ciondolo come questi. E uno teneva uno e uno teneva l'altro. Ed era molto carino. E ho trovato questi. Mi sono piaciuti, subito. Anche perché sono realizzati veramente molto bene. Non pensavo. Allora, il prezzo di questi è di 44 centesimi. Questo è quello nero e questo è quello bianco. Gli ho chiesto se avrebbe voluto metterlo, mi ha risposto di no. Quindi sono un po' amareggiata da questa cosa. Allora, guardate. Questo, se non sbaglio, dovrebbe essere lo Ying. Mi pare che lo Ying è femminile. E ha le pietre, guardate. Così. Sono semplici. Sembrerebbe quasi, come si chiama? L'ho letta diverse volte questa pietra. Comunque, ragazzi, veramente sono fatti molto molto bene. Ve lo mostro anche indossato. E guardate questa che bella. Ha tutti questi brillantini. Comunque, ragazzi, sono veramente molto belli. Singolarmente li trovo molto più carini. Ma anche messi così insieme sono veramente belli. Però, sinceramente, singolarmente... Vediamo se riesco a dividerveli. Guardate. Non lo so, singolarmente danno proprio tutt'altro. Comunque li trovo veramente belli. Andiamo avanti. Ho poi preso queste margheritine. Questi fiorellini multicolor. Questi 78 centesimi. Poi, ecco, un'altra cosa che volevo rendere è questa. Allora, dovrebbe essere un accessorio di digitopressione. Che, praticamente, se si ha mal di testa, si mette così. E dovrebbe affievolire il mal di testa se non farlo passare. E questo 98 centesimi. L'ho preso per il mio compagno che soffre spesso di mal di testa. Ma lui non ne ha voluto sapere. Due sberle prima o poi gli do. Comunque. E quindi anche questo volevo renderlo. Poi ho preso questa, ragazzi, che adoro. È una ranocchia. Che praticamente ha la levetta dietro. Che è veramente molto, molto dura. Infatti l'ho scritto poi nella recensione. E praticamente è morta in acqua. È troppo cuccioso. È troppo cuccioso. Mi piace che era tantissimo. Comunque, 75 centesimi. Proseguiamo. E poi ho preso questo lotto da 50 pezzi. Cioè, proprio questo qua non mi piace per niente. E c'è la possibilità di scegliere lì. Questa è una cosa positiva di Temu. Però questa proprio non mi piaceva. Quindi anche questa avrei voluto renderla. Questo è il prezzo è di 1,88 euro. Questi qua costano parecchio, di solito. Poi, altro stampo super wow. Che non avevo mai visto. Ed è questo. Che ho pagato 1,34 euro. Guardate. È per ricreare praticamente due ciondoli. Quindi sempre parliamo dello Ying e dello Yang. Di due gatti che poi si incastrano fra di loro. Quindi vengono create appunto due collanine. E anche questo l'ho trovato super carinissimo. Veramente super bello, bello, bello. E finiamo. Sì, finiamo. Con questo. Ah, scusate. 1,34 euro dello stampo. Finiamo con questo. 89 centesimi. Che sono 60 adesivi. Loro scrivono impermeabili. Non lo so. Ma neanche in interesse testarlo. Con soggetto luna, paesaggi notturni. Le trovo veramente. Cioè, sono bellissimi. Oddio. Questo cosa c'entra? Qua c'è leva. È un anime giapponese. Vabbè, questo non so perché l'hanno messo. Non ha molto senso. Comunque, guardate. Sono veramente molto, molto, molto belli. Mi piacciono veramente tantissimo. E questo è quanto. Allora, come vi dicevo, sono arrivati nei tempi. Loro dovevano consegnare tra il 12 e il 19 giugno. Hanno consegnato per tempo. Quindi, i 5 euro non li hanno accreditati perché appunto non hanno sbagliato. Insomma, sono stati corretti. È arrivato tramite Corriere di Poste Italiane. E, diciamo, questo è quanto per l'acquisto. Quindi, diciamo, in totale ho pagato 7,52 euro utilizzando anche i 5 euro della scorsa spedizione di cui appunto loro mi avevano omaggiato perché erano in ritardo con la consegna. Poi, c'è la procedura di reso. Allora, in questo caso l'ho già fatta proprio per non farla in diretta con voi perché magari non sapevo rispondervi a qualcosa. Ma in questo caso vi posso rispondere a metà. Allora, come vi ho anticipato, volevo rendere questo, ovviamente nella confezione, visto che adesso il mio amico lo tengo, questo e questo e il libricino. Queste cose qua le volevo rendere. Quindi, si va su restituisci articolo e vediamo se posso fare... Sì, allora, fate reso rimborso. Questo è dell'ordine quello scorso che avete già visto. Ti dice hai ricevuto il tuo pacco? Sì. E avete qua tutti gli articoli. Quindi potete dire, questo lo rendo, lo selezionate, la quantità del reso, motivi del reso. Quindi avete i diversi motivi da cui scegliere. Poi andate giù, giù, fino alla fine, andate avanti. Su avanti vi dirà che la spedizione è gratuita del reso. A me, però, non ha affatto andare avanti perché mi ha detto che per questa volta, secondo me perché proprio il prezzo era esiguo, quindi sarebbe proprio costato di più spese di ritorno. Mi hanno detto che praticamente queste cose qua le potevo tenere, queste qui, che alla fine sono... Mi hanno fatto il rimborso, aspettate che vi dico quanto è. 4,13 euro. Sono... me le lasciano gratuitamente. Quindi, insomma, va anche bene... Cioè, relativamente bene così perché alla fine non li volevo. Però troverò un uso a parte questo e a parte questo, questi due, prima o poi si usano. Perciò, sinceramente, adesso non so dirvi come funzionano i resi. Come primo impatto mi sembra che siano uguali a Shin. E vi farò un video a riguardo, visto che me l'avete chiesto. E quindi, diciamo, per il momento come velocità ha vinto Temu. Come qualità dei prodotti, di quelli che ho ordinato, tendenzialmente a parte qualcuno che mi ha scelta un po' così, sono buoni. I prezzi sono convenienti, ma vi ripeto, non so se è un discorso di promozione perché sono appena, tra virgolette, giunti in Italia. E poi magari li alzeranno. Comunque, vedo che tanti prodotti sono per me nuovi, quindi mai visti neanche su Shin. Aliexpress, sono sincera, ragazzi, non lo sto più guardando da una vita perché ha dei tempi assurdi di consegna. E quindi, sinceramente, non ho voglia di aspettare. Io sono una a cui mi piace ricevere le cose subito. Come, ad esempio, questo qua. Non l'avevo mai visto. Ed è bellissimo, veramente stupendo. Ho anche il campanello eolico che, sinceramente, non l'ho mai cercato, ma quando l'ho visto l'ho trovato super bellissimo. E perciò, questo. Poi, ecco, visto che questo video lo caricherò oggi, che è il 16, c'è un'offerta per tutti. C'è una promozione a cui vi chiedo di partecipare insieme a me per aiutarci a vicenda. Si tratta di un gioco, si chiama Farmland, che è questo qui. Allora, praticamente, vi fanno scegliere due articoli che volete ricevere in omaggio. Io, in questo caso, ho scelto... non so se si riesce a vedere... Sono praticamente una Dolaus e una fatta con i mattoncini, questo stile giapponese. Guardate che bello. Quindi, veramente, spero tanto di riuscire a vincerli. Poi, 40 euro in coupon da utilizzare su una spesa di 160 euro e 30 in coupon su una spesa di 100 euro. Cosa bisogna fare? È un po' come Farmville. Praticamente, qui avete il campo con, mi pare, il grano turco e dovete dargli l'acqua. Quando poi si raccoglie il grano turco, vi danno dei soldi. Io adesso sono arrivata, praticamente, quasi al 100%, ma è la parte più difficile. Perché se prima vi davano, per ogni acqua vi davano tot di soldi, adesso ve ne danno molti meno. Prima vi davano, tipo, anche un euro, due euro. Adesso, veramente, molto, molto meno. Avete un bonus, tipo, di 65 euro. E poi, si va avanti. Allora, vi chiedo, appunto, se volete aiutarmi, sarebbe veramente fantastico. Poi, io vi aiuterò uguale. Perché, quando chiedete a qualcuno di aiutarvi, poi rimane, vediamo, aspettate, Referred Water, rimane, appunto, qui. Quindi, io, il giorno dopo, vedete, claim more tomorrow. Il giorno dopo, clicco e vi do l'acqua anch'io. Quindi, è molto, molto comodo. Oltre a questo, avete anche, giornalmente, l'acqua, che vi danno direttamente l'oro. E più degli scrigni, come in questo caso, mi pare che erano 22 al giorno. Ci sono gli scrigni plus, che contengono 10 di acqua. Ah no, 20 in questo caso, beh, meglio. E poi, ogni minuto, se ne apre un altro. Questi sono più piccoli, e di solito solo dovrebbero essere da 5. Ma non è tutto, perché, quando adesso vedete che qua ho 20 di acqua, io aggiungo l'acqua, e sono arrivata a 40,5%, devo arrivare veramente al 100%, solo per collezionare i 10 centesimi. Vabbè. Però, insomma, se poi ricevo gratis queste due cose, sarei veramente felice. In più, c'è quest'altro aiuto, ogni tot che date l'acqua, vi dice, ritira il tuo premio. Quindi, mi ha dato altri 20 di acqua, e li vado a versare. Li vado a versare tutti. Ok. Poi, ogni giorno avete anche l'aiuto, quindi avete diversi aiuti, però è sicuramente più facile se avete degli amici che vi possono aiutare. Quindi, è ottimo, vedete, adesso è passato un minuto, reclamo il mio scrigno, e qua ce ne sono 10. E ne ho ancora 8 da aprire. Quindi, aggiungiamo ancora l'acqua. Quindi, ragazzi, io vi metterò giù in descrizione il link, se voi per caso riuscite ad aiutarmi. Anche se siete iscritti, potete aiutarmi lo stesso. Io mi sto aiutando con una ragazza che ho conosciuto tramite YouTube, una ragazza molto gentile, super simpatica, quindi ci stiamo aiutando a vicenda. Però, insomma, più siamo, meglio è, più facile ricevere i premi. E, insomma, è una gran cosa, insomma, se si riesce un attimino a sfruttare questo sistema per ricevere determinate cose. Poi, se poi vi piacciono, è ancora meglio, no? Io adoro questi due, cioè, questo qua è bellissimo, guardate, vediamo se si esce. Si vede, meglio, quasi in videocamera. Cioè, è come il tempio, l'albero di ciliegio, la cascata. E questo dovrebbe essere fatto tutto con delle mini costruzioni. Infatti, aspettate, riesco a leggerlo tramite la videocamera. Sono 3320 pezzi, più due bambole, più la luce USB. Mamma mia, deve essere stupendo! E poi c'è quest'altro, che credo che questa sia una dollhouse, di quelle che ho fatto con voi, che ho fatto altri video, insomma, quindi che conoscete già. Ok, ho da prendere un altro scrigno. Ok. Diamo l'acqua, quindi ho raggiunto di nuovo il target qui, quindi posso aggiungerla ancora. Vai. Adesso, non lo so se è così, però ho notato che bisogna arrivare a 3000 grammi di acqua. Quindi arrivare al 133. Io sono praticamente a metà, quindi non lo so. Il bello è che però ci sono 28 giorni di tempo per riuscire a farlo, quindi questo è un grande aiuto. Perché ci sono, tipo su Shein, c'è un gioco che tipo in 24 ore devi farlo, quindi questo è veramente un grande aiuto. Insomma, ragazzi, se mi volete aiutare, sarebbe veramente grazie, grazie, grande, grande, grande. E ovviamente poi vi aiuterò anch'io. Quando arriveranno le cose, se arriveranno, insomma, vi farò anche un video, perché sinceramente queste due cose meritano un video, perché sono veramente stupende. E niente, comunque sì, ci sono veramente tantissime cose su cui potete scegliere e decidere. Secondo me fate, come ho fatto io, vi slasciate tutta la pagina finché siete sicuri, perché così almeno scegliete quello che vi piace di più, senza perdere. Perdete un po' di tempo, ve lo dico, perché poi io sono indecisa e ci ho impiegato una vita, però veramente è ottimo. Poi, se volete tornare indietro, vi dice che non c'è problema, adesso me non lo dice più probabilmente. Ah no, lo dice ancora. Vedete, se volete tornare su Farm, questa cosa qua, basta che voi lo mettete sulla scritta, vedete, e tornate di nuovo dentro. Quindi, veramente easy. Se avete comunque qualche dubbio, vi risponderò giù nei commenti. Quindi, mi raccomando ragazzi, vi metterò il link, come dicevo, sia in descrizione, ma anche come primo commento. Aiutatemi, aiutatemi, please, 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 please. Ok, faccio ancora questa. 10, e vai. Bene ragazzi, quindi, in questo momento il mio cuore è ancora su Shein, onestamente, perché non sono ancora riuscita a dare massima fiducia a Temu, proprio perché non ho avuto occasione di testare servizio clienti o i resi, cosa che su Shein ormai veramente conosco perfettamente. Però, devo dire che su questo ordine, piccolo, perché è molto piccolo, sono molto contenta. Amo alla follia questi braccialettini qua, mi piacciono veramente tantissimo. Questi sono stupendi, questi li volevo da un pezzo, e poi tutte cose a prezzo. E queste qua, no vabbè, bellissimo. Bene ragazzi, ora vi saluto, e dopo questo video vedrete anche il video di Shein, perché mi è arrivato due giorni dopo Temu. Volevo farlo insieme adesso, però siccome su Shein ho ordinato molto più roba, non ci stavamo quei tempi. Perfetto, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, ovviamente non lo pubblicherò proprio subito o questo, quindi aspetterò qualche giorno. Iscrivendovi al canale, e cliccando anche la campanellina, riceverete una notifica in automatico quando lo pubblicherò, così non vi perdete nulla. E poi ovviamente vi farò anche il video sui resi di Shein. Un grosso abbraccio, un mega bacione, e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!